buongiorno buon lunedì mattina buon inizio settimana cominciamo con il nuovo episodio di rudimondi dove vediamo alcuni dei rudimenti dei 40 fondamentali oggi andiamo avanti e cominciamo con il swiss army triplet come dice il nome siamo in terzine e consiste in un flame di destra destra sinistra flame di destra destra sinistra il prossimo rudimento è l'inverted flametap è appunto come il flametap che abbiamo visto qualche episodio fa ma con uno sticking diverso quindi abbiamo flame di destra sinistra flame di sinistra destra e l'ultimo rudimento per oggi è il flame drag dove abbiamo un flame di destra poi andiamo a fare un drag quindi abbiamo due colpi veloci con la sinistra e destra e poi il contrario flame di sinistra due colpi veloci con la destra e sinistra bene questi erano i tre rudimenti di questo nuovo episodio di rudimondi usateli come al solito per riscaldarvi prima di mettervi alla batteria a studiare a suonare canzoni e ci vediamo la settimana prossima con i prossimi rudimenti ciao